Prevenire gli incidenti stradali non solo è un obbligo di tutti noi, ma soprattutto è possibile. La sicurezza sulle strade è una delle priorità dell'assessorato ai lavori pubblici della provincia di Bolzano. Numerose le iniziative di sensibilizzazione che sono state messe in campo nel corso degli anni per ridurre il più possibile il numero di vittime feriti. Tra gli ultimi progetti questo opuscolo dal titolo Attenzione in galleria precedenza alla sicurezza, curato dall'Unione dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari dell'Alto Adige in collaborazione con il Dipartimento Edilizia della provincia. Innanzitutto va sensibilizzata la nostra cultura, ovvero ognuno di noi, che a questa maniera si rende parte interessata, ovvero che ci comportiamo anche nel modo più corretto nel caso dovesse succedere qualcosa. Riteniamo anche di grande importanza avere a disposizione forze di soccorso di ogni genere e Vigili del Fuoco che in questo senso danno una mano a raggiungere quei risultati che oggi giorno possiamo anche vantare. Dal 2002 al 2012 gli incidenti in galleria sono stati dimezzati, da una parte sicuramente per il miglioramento delle infrastrutture, dall'altra per gli ottimi risultati ottenuti con la costante informazione rivolta agli automobilisti. La sicurezza delle gallerie deve essere garantita da tre tipi di misure, costruzione di gallerie sicure, le gallerie in Alto Adige hanno un alto standard di sicurezza, comportamento corretto degli utenti della strada e poi da un servizio antincendi molto efficace. Il comportamento corretto degli utenti della strada è un elemento molto importante per garantire la sicurezza, per questo motivo oggi è stata presentata una brochure che contiene informazioni importanti per il comportamento corretto degli utenti della strada. Tra i consigli contenuti nell'opuscolo si esorta i conducenti a prestare attenzione ai semafori e alla segnaletica, mantenere la velocità consentita, mantenere una distanza di sicurezza maggiore rispetto ai tratti all'aperto. Durante il tragitto in galleria si consiglia di prestare la massima attenzione agli impianti di sicurezza, utilizzarli in caso di emergenza, sfruttare l'apposita nicchia SOS. È molto importante perché abbiamo 55 km di galleria nella nostra provincia, soprattutto in queste settimane, in questi mesi, ci stiamo impegnando per poter garantire l'apertura al traffico di tre importantissime gallerie per la nostra provincia, mi riferisco alla galleria di Merano, di Laives e di Ora. Tutte e tre sono di classe A, quindi trattasi di gallerie complesse. Proprio in queste settimane stiamo elaborando i piani di intervento per la sicurezza, in collaborazione con i Vigi del Fuoco e con la protezione civile, e sono in fase, proprio sui cantieri, di installazione per disposizione di tutte le impiantistiche e le dotazioni di cui questi tunnel necessitano. Sono in fase di organizzazione anche alcune esercitazioni preventive a quella che è l'apertura al traffico, al fine di poter programmare e tarare al meglio il funzionamento degli impianti. Il pieghevole attenzione in galleria precedenza alla sicurezza è disponibile presso la sede del Dipartimento Edilizia ed una copia sarà legata al numero di maggio del mensile provincia autonoma.